In A11 ci sono code per viabilità esterna che non riceve nel tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipili traffico rallentato per un veicolo fermo tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna sempre in direzione di Firenze. In A12 fare attenzione per nebbia a banchi tra Livorno e Cole Salvetti così come in A11 tra Lucca e la barriera di Pisa Nord. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali. Ricordiamo che da ieri è scattata la modifica dell'incrocio tra via Cinque Giornate e via dello Statuto. Si tratta di un passaggio verso la configurazione finale della viabilità prevista a tramvia in funzione. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!